Il randaggismo è uno dei tanti problemi per cui si battono da anni le associazioni animaliste del territorio. La microcippatura e le sterilizzazioni sarebbero il giusto punto di partenza per poter venire a capo di questa matassa che sembra ingarbugliarsi ogni giorno di più, soprattutto all'indomani dell'aggressione del branco ai danni di un bambino tedesco avvenuto ieri pomeriggio. La situazione del randaggismo è una situazione che si protrae da decenni, no da anni, da decenni. E devo dire che è stato fatto poco o niente per quanto riguarda il fenomeno del randaggismo e il contenimento del fenomeno del randaggismo. In tanti, attraverso i canali social, hanno criticato l'amministrazione, che non è ancora riuscita a risolvere la situazione, attaccando anche le associazioni animaliste, che, secondo molti, con il loro portare cibo e acqua e randaggi non ne permettono la cattura. L'articolo 544 bis sul maltrattamento. In tutte le ordinanze in cui i sindaci hanno vietato di dare e mangiare a randaggi, la Cassazione le ha rigettate, facendo subire anche al comune il danno erariale. Perché il randaggismo c'è dare sostegno ai cani, ai gatti, con acqua e cibo, cosa che il comune non fa ed è a carico sulle spalle dei volontari, non è assolutamente illegale. Ho paura che si venga a creare un clima di caccia alle streghe, in cui ognuno di noi, ognun cittadino, si crede in diritto di poter fare del male all'animale per difendersi e quindi anche sopprimerlo. Ecco, questo è una cosa pericolosa e certi posti, certe affermazioni da parte di persone incompetenti e inconcludenti dovrebbero essere evitate. Anche i volontari di Vita Randaggia, che stamattina hanno fatto un sopralluogo insieme all'amministrazione, sono molto preoccupati ed invitano la popolazione a non abbandonare il proprio animale domestico o i cuccioli indesiderati, per evitare che con il tempo si formino nuovi branchi che mettono a rischio la salute del cittadino. Per risolvere il problema è necessario non solo togliere i soggetti presenti in libertà dei branchi, che è assolutamente necessario, ma bisogna anche evitare che si trovino altri animali sul territorio vaganti in futuro. Bisogna quindi intervenire in modo costante e massiccio nel controllo dei cani padronali. Devono essere tutti microcippati e sterilizzati, perché le nascite anche nei cani padronali sono incontrollate. Una persona che non tiene il cane in modo idoneo, nel momento in cui la cagna gli resta incinta, prende la cucciolata e l'abbandona per strada. Quindi possiamo anche togliere, ripeto è una cosa che deve essere fatta, i soggetti di questo branco, ma bisogna intervenire affinché non se ne trovino altri.